buona giornata buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 29 aprile iniziamo insieme una settimana vedremo i giornali quello che pubblicano tutti i giorni il resto del carlino e il corriere adriatico e come sempre iniziamo dal almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia una grande una grande santa e chi è è santa caterina da siena eccola qua in un bellissimo quadro santa caterina da siena visse nel quattordicesimo secolo terziaria domenicana donna di fede di amore di carità ma anche donna di impegno politico nel senso più alto di questo termine pensate indirizzò più di 300 lettere a papi a principi ai popoli che erano in continua lotta tra di loro e riuscì anche con la sua opera di convincimento ovviamente era un'opera che si basava sulla fede il papa a tornare dall'esilio di avignone a roma e quindi fu un grande successo e il suo corpo il suo corpo riposa nella chiesa di santa maria sopra minerva nei pressi del panteon di roma mentre una reliquia importante costudita invece nella sua città natale a siena santa caterina una santa che si può così accostare al ruolo importante di patrona d'italia vediamo ora le previsioni del tempo oggi il tempo migliora tempo stabile e solleggiato su tutta la regione ventilazione debole prevalente un regime di brezza massime tra 20 e 24 gradi la minima si è testata da 11 gradi i venti sulle coste espireranno con una tensione debole da nord e nord est mentre nell'entroterra da est il mare è calmo si può dire e diciamo anche che il sole il sole si è alzato alle 6.01 e tramonterà alle 20.07 le giornate continuano ad allungarsi e allora oggi per primo apriamo il resto del carlino sulla pagina iniziale dove c'è il assunto un po' di tutte le notizie che appaiono sulla regione Marche vediamo qui il titolo che appare sulla provincia di Pesaro Urbino chiude la cattedrale a Pesaro perché chiude ebbene si fanno importanti lavori di restauro sui mosaici su questo importante tesoro che deriva dall'epoca paleocristiana ne parleremo diffusamente a Fano vandali in azione invece nel porto dove hanno fatto così un atto veramente inutile ma anche dannoso nei confronti di una barca e poi si parla di tasse dei comuni tasse per latari tasse per la volta dei rifiuti che sono in continuo aumento e qui ci sono delle polemiche in corso vediamo la pagina di Ancona i ragazzini credono sempre nell'amore ebbene è una consolazione questa straffi si gode il successo del fabbricante di lacrime noi italiani siamo al top su Netflix su Netflix pensiamo ad una serie tv ebbene questo è un articolo che richiama quello che è pubblicato sulla pagina nazionale del resto del Carlino e lo vediamo qui questo articolo il fabbricante di trionfi i ragazzini di tutto il mondo credono sempre nell'amore noi italiani al top di Netflix ebbene tratto dal film di Aaron Doom il film non in inglese più visto nella piattaforma di 53 paesi quindi un grande successo planetario dietro il successo il papà delle Winx Gino Straffi marchigiano ora pensiamo anche ad una serie tv ha dichiarato ebbene Straffi regista produttore fondatore dello studio di animazione Rainbow padre delle famose Winx che hanno spopolato un po' e ne tutto il mondo Gino Straffi marchigiano di 58 anni e l'uomo dietro al successo di fabbricante di lacrime ecco questo dunque l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Aaron Doom che sta veramente spopolando un po' in 53 paesi quindi veramente un grande successo torniamo sulla pagina del locale del resto del Carlino e vediamo le notizie che appaiono sempre nella provincia di Ancona Tamberi, Tamberi questo grande campione dello sport portabandieri, un orgoglio per le marche è un esempio e c'è una intervista al presidente del CONI che rileva un solo importanza della figura di questo atleta che ha raggiunto un record eccezionale nel salto in alto e poi si parla delle difficoltà delle nostre imprese che hanno dei collegamenti all'estero di modo particolare con la Russia ebbene l'Ariston è preoccupata subito stop alla guerra anzi subito, non subito, subito stop alla guerra perché veramente le aziende marchigiane avevano dei grossi collegamenti con le aziende russe anche con il mercato russo e tutto questo manda veramente in rovina tutto quello che si è costruito in questi ultimi anni vediamo la pagina di Ascoli e di Fermo eccole qua a fondo pagina a Falerone si dà l'addio a Ferini, l'ex sindaco e segretario comunale aveva 76 anni e poi una avvocatessa incastra un maniaco seriale che è stato poi condannato mentre anche a Fermo si parla di Tari, aumento in vista ma sosteniamo i redditi bassi così avrebbe detto il sindaco della città vediamo Macerata, eccola qua demolito il primo dei palazzoni inagibili, test per la viabilità in via Pantaleoni a Macerata a Civitanova si parla della movida selvaggia, un uomo steso in strada coperto di sangue ancora cronaca, ancora risse per quanto riguarda il sabato sera, la domenica, i giorni festivi e a Potenza Picena scoppia il caos nel bar, polizia locale interviene con lo spray e anche qui c'è di che da fare per le forze dell'ordine allora apriamo il giornale e vediamo quello che accade nella nostra provincia per quanto riguarda la Tari ebbene c'è stata una riunione recentemente dell'autorità d'ambito che decide sull'aumento o meno delle tariffe ebbene ha deciso per l'aumento questa volta, un aumento piuttosto importante perché si parla anche di un più 14% e questo insomma per le famiglie per le quali l'importo della tassa non è tanto così calcolato per quello che loro producono e quindi per quello che l'azienda poi deve sostenere ma è calcolato per parametri diversi come l'estensione della casa, i locali e via dicendo e qualcuno si trova anche nella difficoltà di pagare questo servizio che è pur importante e piuttosto oneroso Tari, la corsa folle dell'aumento, solo quattro comuni su 51 si oppungono Marche Multiservizi si ritaglia un margine del 30%, non è poco la protesta del sindaco di Sant'Angelo Invado si poteva ritoccare solo del 3% annua, ha dichiarato Invece hanno imposto il rialzo doppio per due anni di fila, sì perché questo rialzo poi viene impostato parte nel 2024 e parte nel 2025, così facendo nel biennio arriviamo a più 14% Ma però che cosa è accaduto? Che solo quattro comuni su 51 hanno detto no, così non va bene per niente Non potete aumentare la tassa dei rifiuti fino al 14% in due anni, non è giusto Le famiglie non possono pagare così tanto Ebbene, che cosa è accaduto? È accaduto che forse tutti gli altri comuni sono consenzienti per ragioni politiche oppure perché intascano qualcosa di più rispetto alle finanze di cui beneficiano tutti i giorni Ebbene, sono punti interrogativi che lasciano un po' perplessi perché poi qualcuno dovrebbe pur prendere le parti della utenza Ed ora diamo un'occhiata invece a questo bellissimo articolo sulla Cattedrale di Pesaro dove sono in atto, dove cominciano oggi, perché appunto oggi la Cattedrale chiude per lavori dove cominciano oggi nuovi interventi per ampliare quella superficie visibile del pavimento che attraverso una vetrata potrà far vedere al pubblico quello che c'è sotto, sotto il pavimento della Chiesa E sono due strati stupendi di mosaici che risalgono all'epoca paleocristiana Chiude la Cattedrale, partono oggi i lavori per ampliare le finestre che mostrano i mosaici Nuove aperture per ulteriori 42 metri Si superano i 200 metri quadri che saranno resi visibili per quanto riguarda quello che c'è sotto il pavimento Un'operazione che è stata finanziata dalla Fondazione Scavolini e che verrà eseguita dal Renco Porte chiuse per un mese, le messe si celebreranno nelle chiese di Santa Lucia e di San Giuseppe Ebbene, è bello questo articolo perché poi ci sono tutti i particolari dell'intervento soprattutto per quanto riguarda l'insorgere della curiosità per vedere veramente sono dei punti che non sono quasi mai visti C'è una nave troiana addirittura che viene disegnata con le tessere musive di particolare interesse Bene bene, torneremo a vedere quando i lavori saranno finiti Ed ora veniamo a Fano e evidenziamo questo fatto di cronaca Si tratta di un fatto di vandalismo, quindi un fatto inutile di sé per sé Ma dannoso per gli effetti che ha determinato Vandalismo alla Dassena Colonna da tre quintali gettata contro una barca Solo sfiorata lo scafo ormeggiato Allertata subito la guardia costiera ma anche la polizia locale E si spera di individuare gli autori di questo scherzo cretino Che scherzo non è con le telecamere Il porto per fortuna è controllato dalle videocamere Hanno fatto rotolare questa colonna Vedete, è una bitta È un masso dove si legano le corde per gli ormeggi delle barche Ebbene, era spezzata Hanno fatto rotolare E per fortuna non è caduta all'interno della barca Altrimenti l'avrebbe affondata Una colonna bassa e larga di 300 kg Sfiorata un'imbarcazione di un socio della Lega Navale Tagliati anche gli ormeggi di altre barche È accaduto nella notte tra sabato e domenica Lungo il canale Albani Nell'area restaurata della Darsena Borghese Sul lato sud della passeggiata romantica Se la bitta fosse finita sulla barca Fa notare Rolando Bocchini della Lega Navale L'avrebbe papale papale affondata Nella caduta comunque la colonna ha urtato contro la scala Che scende in acqua e si è spezzata in due Ebbene, insomma, è una cosa veramente inqualificabile Perché chi fa questi atti sono veramente atti inutili Ma atti veramente dannosi A Pesaro un pestaggio viene risolto Nel senso che vengono individuati gli autori Dalle forze dell'ordine Sono stati infatti identificati gli autori del pestaggio Ad un ventenne avvenuto la settimana scorsa Nel parcheggio del campus di Pesaro Sembra che si tratti di quattro giovani pesaresi Conoscenti della vittima Che non hanno esitato a pestarlo Fino a fratturargli il setto nasale Adesso veramente la pagheranno Perché poi sono stati identificati Vediamo anche questo articolo Che riguarda Tamberi Che abbiamo annunciato nella cronaca Di Ancona Tamberi, portabandiera Vedete qui che bella fotografia Lui che aveva raggiunto questo record Nel salto in alto Ammantandosi del tricolore Quindi anche un portabandiera di fatto Tamberi, portabandiera Gimbo è già nella storia Ma i campioni portano anche medaglie invisibili Intervista al presidente del CONI Marche, Fabio Luna In vista delle prossime Olimpiadi Di Parigi Avere certi atleti fa bene A tutto il movimento sportivo Della regione Ha dichiarato Danno quell'entusiasmo Affinché sempre più ragazzi Si avvicinino allo sport E sono veramente Dei campioni da emulare Questo per quanto riguarda Il resto del Carlino Apriamo dunque La pagina del Corriere Adriatico E parliamo Parliamo di un argomento Che insomma è da diversi giorni Che è sui giornali Quello della sorte Dell'ex zuccherificio Che dovrebbe ospitare Un polo logistico Il polo logistico però Non va lì secondo le conclusioni Di un architetto Che è piuttosto noto a Fano Si tratta di Giorgio Roberti Giorgio Roberti non è solo un architetto A me si è occupato molte volte di urbanistica E quindi anche di posizione Di questa o di quella struttura Il polo logistico va nella zona industriale Suggerisce Roberti C'è l'area idonea Attigua alla superstrada La collocazione migliore Sarebbe spostata nella zona industriale Di Bellocchi Perché nell'ex zuccherificio La viabilità sarebbe inadeguata Ha dichiarato Vediamo che cosa suggerisce l'architetto C'è una collocazione adeguata Nel polo logistico Della zona industriale In località Torno Lì infatti è disponibile Una superficie territoriale Confermata Confermata anche dal piano regolatore Appena dotato di 577 mila metri quadrati Più del doppio di quella Dell'ex zuccherificio Bisogna vedere però lì dopo Chi ci investe Perché da una parte Nell'ex zuccherificio Ci investirebbe la proprietà La proprietà che ha suggerito Questa collocazione Questa definizione Questa funzione dell'area Nella zona industriale Ci può andare anche il polo logistico Però rimane scoperta Tutta la zona dell'ex zuccherificio E chissà quale altra soluzione Potrà trovarsi per questa zona Che è rimasta abbandonata Da decenni ormai Con degrado E con una certa immagine Certo non bella Della città di Fano Proprio alle porte Della città Comunque il dibattito Continua E vedremo Quali risoluzioni Verranno prese poi alla fine Per questo piano regolatore E poi vediamo un attimo Una rivalza Del Movimento 5 Stelle Nei confronti Di Fanesi e Ser Filippi Che si ispirano Alle idee Suggerite appunto Dal Movimento Ed è una nota Questa firmata Dai consiglieri Del gruppo Consigliare In consiglio comunale Del Movimento 5 Stelle Giovanni Fontana Tommaso Mazzanti E Francesco Panaroni Le chiamano Le rivincite Insomma Una soddisfazione morale Da tanto tempo Il Movimento 5 Stelle Aveva così Proposto Proposto Una situazione Così Per quanto riguarda Una situazione contraria Per quanto riguarda La variante di Gimarra Insomma Rimane ancora Nel piano regolatore Però insomma Ora al momento È priva di finanziamento Va bene Che il Candidato Sindaco Del centro-destra Luca Ser Filippi Ha dichiarato Che cercherà Di recuperare Questi soldi Dalla regione Per impiegarli Poi nella realizzazione Della complanare sud Quella che dovrebbe Unire Marotta Alla città Di Fano Però insomma I 5 Stelle Ricordano Che quando c'è stato Il momento Di votare Una loro risoluzione Proprio per destinare Questi 20 milioni Alla complanare sud La Lega Insieme a fratelli Nei giorni scorsi È un nuovo evento Che si affaccia Nel panorama Delle manifestazioni Estive E anche Di bassa stagione Del città Di Fano Si tratta Di un festival Che unisce La musica Alla marineria All'ambiente del porto Insomma Con natura Questo bellissimo ambiente Di sicura Presa Di carattere turistico Con una magia Della musica E ci sono tante Tante canzoni Che parlano di marinai Che parlano di mare Che parlano di atmosfere Marineresche Ebbene Questo connubio È stato preso E valorizzato Dalla Da Rebe Laus Un'associazione Di cui i rappresentanti Sono Mattia Priori E Serena Pier Franceschi I quali Il 24 Il 25 E il 26 maggio Organizzeranno Questa iniziativa Punto centrale Sarà La chiesa Di San Francesco Quella bellissima chiesa Nei pressi Del comune di Fano Senza Senza tetto E senza pavimento Erba e cielo Insomma Sono le due cose Bellissime Di questa struttura Ebbene Lì ci saranno Tre concerti Importanti Ma poi ci saranno Anche tanti Tanti altri Eventi musicali Nelle zone più belle Del porto Dove ci sono Le barche All'ormeggio Dove si vedono Gli yacht Dove c'è Insomma Si respira Quell'aria tradizionale Della cultura Marinaresca Tipica Del 2023 Del pubblico Del pubblico Per le banche Si ripetono E quindi Premiano Gli studenti Migliori Nuova pavimentazione A San Lorenzo In campo Quasi conclusa L'opera Di riqualificazione Del borgo Di Montalfoglio Un borgo Tutto da scoprire E quindi Ora ancora più Valorizzato Da questa nuova Pavimentazione Della piazza E qua Vediamo Il sindaco Dell'Onti Insieme a Giuliano Bonefazzi L'assessore Responsabile Di questo Investimento Veniamo A Senigaglia A Senigaglia Ponti pedonali Nel centro storico Magari Serve un piano Strategico Per così Finalizzare Anche La viabilità Pedonale Bramucci Della Confcommercio E Mugianesi Della CNA Dice Bell'idea Vavano ripensate Viabilità E parcheggi Non siamo pronti Non siamo pronti Lo dicono I rappresentanti Di categoria Confcommercio E la CNA In maniera Molto realistica Infatti Sia Bramucci Che Mugianesi Spiegano I limiti Attuali Di questo Passo importante Che rimane Comunque Un obiettivo Futuro Al momento Non è realizzabile Secondo Si parla Appunto Di ponti Pedonali Nel centro storico Ma a chi Non piacerebbe Passeggiare Tra le vie Storico Dei quartieri Ma anche Del centro Di Senigallia La proposta Formale È arrivata Dagli ingegneri Ecco a cui Si riferiscono I due Rappresentanti Di categoria Gli ingegneri Gentili E Minetti Che Fermo restando La necessità Di individuare Una strategia Complessiva Per il traffico E la sosta Chiedono Di rendere Pedonali Il futuro Ponte Garibaldi E l'attuale Ponte Angeli Ma al momento Insomma Secondo i rappresentanti Di categoria Non siamo pronti E quindi È una cosa Da rivedere E da soprassedere Almeno Per il momento E prima di concludere Vediamo anche Qualche notizia Che riguarda Il capoluogo Dove ci sono Nuovi investimenti Asfalti Per 600 mila euro Ma almeno In sei quartieri Restano In curia E buche La rabbia Dei residenti Perché l'amministrazione Comunale Ha Elencato Dove Verranno Realizzati I nuovi asfalti Però Ne rimangono Fuori Altri E sono Quartieri Che aspettano Da tanto Tanto tempo Che le loro strade Vengano Asfaltate Quindi Protestano I consiglieri Di Pantano Di Vismara Di Villa Ceccolini E di Soria Ci sono sempre Gli esclusi Quando si fanno Questi interventi E bisognerebbe Insomma Rivedere Il piano Delle priorità Caos Sosta Vai a Flaminia File E ingorghi Sulle strade Cittadini Comercianti Così è un incubo Nuovi stalli O ZTL E poi Voglio farvi vedere Anche Qualche notizia Di sport Le vediamo Qui Sul resto Del Carlino La Vispesaro 2 Juventus NG1 Quindi un bel risultato Per i biancorossi Pesaresi Zagnoni E Di Paola Affossano La Juve La Juve Della Serie C La Visse Si regala La posizione Migliore Invece Purtroppo Una triste Una triste Notizia Per Ma loro Già lo sanno I tifosi Del Fano Involta Della squadra Il marchio Infatti Dice È dell'ex Presidente Russo Ebbene Se si rattristano I tifosi Del Fano Calcio Invece Esultano I tifosi Del Volley Perché Come vediamo In questo articolo Se lo trovo E qua Vediamo Un attimo Vediamo Un attimo Eccolo qua La Smart System Fa sua La prima gara Dei playoff Belluno Schiacciata 3 a 0 Il bellissimo risultato Per questa Gara Al top Della classifica Ma siamo in conclusione Ho già sforato il tempo Allora Chiudiamo qui i giornali Noi ci risentiamo Domani Alle 7 Grazie per l'ascolto E a risentirci